La città di Gaeta, tra le altre cose, ancora oggi è conosciuta in tutta Italia per il suo carcere militare. Molti ricorderanno ancora la famigerata minaccia, Timando a Gaeta. Ormai dismesso da circa 30 anni e da oggi luogo di convegni e iniziative culturali, all'interno del carcere militare del castello Angioina Gaeta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra gli altri reclusi, ci furono gli autori delle stragi di Marzabotto e delle fosse ardeatine, Raider e Kapler, ma soprattutto tantissimi obiettori di coscienza. Proprio lo scorso weekend, la città di Gaeta ha accolto tra le mura del castello Angioina un numeroso gruppo di nostalgici ex-detenuti, tutti obiettori di coscienza, che da tempo, alcuni da circa 40 anni, desideravano rivisitare da uomini liberi i luoghi della loro detenzione. Queste persone, circa 50, provenivano da varie regioni d'Italia, dall'Abruzzo, dall'Emilia Romagna, dalla Calabria, dalla Puglia, dal Trentino Alto Adige e dal Lazio. Hanno potuto mostrare così ai loro familiari più stretti i luoghi fino ad oggi solo raccontati ed hanno rivissuto ricordi e si sono soprattutto rincontrati con i vecchi compagni. Ciascuno di loro ha vissuto emozioni e sensazioni miste a nostalgia e contentezza, ripensando al tempo trascorso in cella. Per tutti è stata un'esperienza di forte impatto emotivo che sarà ripetuta nei prossimi anni. L'apertura straordinaria del castello Angioino è stata possibile grazie alla disponibilità offerta dal Rettore dell'Università di Cassino, il Professor Ciro Attaianese, alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Gaeta, in particolar modo all'Assessore alla Cultura, la Dottoressa Sabina Mitrano, e all'impegno profuso dall'Associazione Proloco Gaeta. Grazie.